Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Qual è l'indice di gradimento? Anche qui a partire da giugno 2023 il cartello è il numero 6. Allora vedete anche qui c'è esattamente lo stesso andamento quindi l'andamento della Premier è uguale a quello del governo. 53 si parta giugno 2023 per poi scendere a luglio 52, settembre 49, anche in questo caso rimanere stabile a ottobre. Matteo Ricci cosa sta succedendo?